Ritorniamo in studio. L'Interclub cittadino che comprende Rotary, Panathlon e Lions con la collaborazione anche della FIDAPA organizza ancora una volta una raccolta benefica quest'anno destinata ad uno studente meritevole. La giornata si terrà nell'azienda agrituristica Samandra. Ma sentiamo i particolari nel servizio. L'Interclub nacque nel 2002 da un'idea dei presidenti dei tre club di servizio di Alghero, Rotary, Panathlon, Lions, Franco Pira, Santonello Sias e Luciano Silanos. Ora, gli stessi club di servizio, con la partecipazione e il prezioso aiuto dell'associazione FIDAPA, si uniscono ancora una volta per una raccolta fondi da devolvere in beneficenza. Il ricavato del service Interclub 2013 sarà devoluto al sostegno di uno studente bisognoso e meritevole che dopo aver conseguito il diploma o la maturità abbia necessità di essere accompagnato nel suo percorso formativo. Gli anni scorsi i fondi furono devoluti al restauro dell'orologio del campanile della cattedrale di Alghero, all'acquisto di un deferullatore da donare al polisoccorso, di un elevatore per persone disabili, di due sedie per la terapia donate all'ospedale civile di Alghero. Quest'anno il comitato e rappresentanza dei club ha pensato di organizzare una giornata di formazione e informazione attraverso le attività pratiche. Viene proposta una giornata all'insegno della tradizione della cultura sarda nella calda atmosfera dell'azienda agrituristica Samandra, insieme alle mani esperte e competenti di chi sa fare come si faceva una volta. La lavorazione del pane, la degustazione del vino e dell'olio, il laboratorio del formaggio e l'arte del raccontare saranno i percorsi attraverso i quali chi vorrà aderire sarà guidato. Ci si potrà sedere intorno al fuoco ad ascoltare storie come si faceva una volta accanto al camino nelle sere d'inverno o sulla soglia di casa nelle lunghe notti d'estate. Per informazioni e prenotazioni si può scrivere una mail all'indirizzo interclubalghero.it E questa mattina il campo di Maria Pia ha ospitato la festa del rugby, il tutto nell'ambito del progetto della federazione coordinato dall'Agra Associazione Giovanile Rugby Alghero, presieduta da Luigi Mortello che coinvolge scuole di Alghero e Sassari. Stamattina erano davvero in tanti a praticare lo sport della palla ovale. Abbiamo parlato delle attività con Matteo Toniolo, giocatore dell'amatori e coordinatore del progetto scuole. Matteo Toniolo, oltre ad essere giocatore di rugby sei anche il coordinatore di questo progetto per quanto riguarda le scuole medie. Un progetto voluto dalla federazione e poi dall'Agra che è? Fortemente voluto dall'Associazione Giovanile Rugby Alghero che dall'anno scorso ha ampliato il numero di scuole partecipanti al progetto e oggi si può veramente dire che è una grande festa al campo. Anche il clima ci ha aiutato perché è veramente una giornata stupenda. Penso che i ragazzini stanno divertendo e io più di loro. Che cosa state facendo con loro? Allora l'intento è quello di far conoscere questo sport che il rugby ha più ragazzini possibile. Sperando che se ne innamorino e che vengano poi a giocare perché veramente stanno dando grandi soddisfazioni. Ne avete divise in stazioni vedo. Sì abbiamo diviso alcuni giochi che sono quelli che poi sono stati fatti durante l'attività a scuola e quindi dei giochi che già conoscono ma a breve allestiremo dei campi per poter giocare veramente a rugby. Ci sono scuole sia di Alghero che di Sassari anche? Esatto c'è la partecipazione della scuola di Alghero, della scuola storica perché sta seguendo da più tempo di Sassari e di Latte Dolce e quest'anno si è giunta anche la 5 più 12 in gran numero devo dire. Perché un ragazzo dovrebbe affacciarsi allo sport del rugby Matteo Toniolo? Potrei parlare del mezz'ora ma sicuramente è uno sport che in questo momento dà dei valori che altri non danno, valori di lealtà, di correttezza che per me sono importantissimi e cerco di trasmetterli il massimo possibile a questi ragazzi. Il campo questa mattina rappresenta anche il sindaco Lubrano al quale abbiamo chiesto oltre che dell'iniziativa riguardante i bambini delle scuole anche della situazione del campo da rugby di Maria Pia. Sindaco Stefano Lubrano anche lei oggi qui al campo di Maria Pia per questa festa del rugby che coinvolge i bambini delle scuole medie di Alghero e anche di Sassari. Sì assolutamente, è una bellissima festa, un'iniziativa importante fatta dalla società che gestisce l'attività giovanile di amatori e la Federazione Italiana Rugby. Importante perché riguarda il movimento del rugby algherese ma anche perché amplia questa attività e questo movimento alla forma più ampia e più vasta cominciando anche altre scuole di Sassari. E quindi ci viene da chiedere una festa così, tanti bambini sul campo da rugby, questo campo da rugby però è stato teatro e ancora non si sa poi alla fine come andrà per quanto riguarda la sua concessione. Ma è quello che diciamo noi, crediamo che proprio grazie all'importanza del movimento del rugby ad Alghero chi svolge queste attività deve rendersi conto che è opportuno guardare avanti, evitare di scontrarsi per questioni che possono essere superate. L'amministrazione comunale da subito si è messa a disposizione, ha dovuto agire per atti ma anche facendo questo vuole sostenere, sta portando avanti il colloquio con entrambe le realtà algheresi in modo tale da di venire ad un accordo. Quando si potrà arrivare a un risultato? Io penso in un tempo diciamo abbastanza contenuto anche perché vi sono esigenze non solo amministrative ma anche operative di entrambe le società. La prossima settimana ad Alghero arriva il Barcellona con i suoi tecnici per il progetto Barça Kids. L'iniziativa nasce dalla collaborazione con l'amministrazione comunale di Alghero e l'ufficio di rappresentanza della Generalità de Catalunya all'Alghè e con la fattiva partecipazione dei tre istituti comprensivi della città e naturalmente della Fundació Barcellona. Il Barcellona Calcio porta la prossima settimana ad Alghero la filosofia blaugrana del settore giovanile diventata un modello dal punto di vista tecnico ed educativo. I tecnici e gli educatori delle giovanili del Barça saranno ad Alghero nell'ambito dell'accordo raggiunto dal sindaco Lubrano con la Fundació Barcelona e con la Generalitat de Catalunya ad Alghero. L'iniziativa rientra nella serie di accordi siglati a novembre a Barcellona dal sindaco Barça Kids e il progetto pedagogico tecnico didattico promosso dalla Fundació Barcelona che approda ad Alghero nei giorni 17, 18 e 19 aprile. L'iniziativa nasce dalla collaborazione con l'amministrazione comunale, assessorato alla cultura, politiche e linguistiche, pubblica istruzione e sport e l'ufficio di rappresentanza della Generalitat e con la fattiva partecipazione dei tre istituti comprensivi della città. L'attività è studiata per gli alunni della scuola primaria e della scuola media di primo grado, mirata allo sviluppo e al consolidamento dei valori educativi e morali attraverso il gioco del calcio. Il progetto prevede una tre giorni all'insegna del gioco e del divertimento per gli alunni della Pedrera Algherese, seguiti dalla sapiente guida dei tecnici provenienti dal settore giovanile del Barcellona. L'assessore Caula, che ha sostenuto l'iniziativa, ricorda che i piccoli si confronteranno attraverso una serie di giochi che caratterizzati da una metodologia mirata per seguire quei valori che permettono ai bambini di crescere in un ambiente sano e il tutto rigorosamente in lingua catalana. Utilizzare dunque il canale sportivo per arricchire il vocabolario catalano-algherese dei nostri bambini. Per questa edizione è tutto, vi lascio al meteo, vi ringrazio come sempre per averci seguito, arrivederci.